Marizzo Fugatti, il Vice Ministro Fassina ha detto che la coperta è troppo corta, mancano i soldi per non aumentare l'IVA. Lei come risponde? Che il Vice Ministro Fassina da quando è entrato a far parte del Governo sia completamente trasformato, perché noi lo ricordiamo precedentemente per essere stato uno dei giovani turchi rivoluzionari all'interno del PD, dove economicamente diceva che bisognava assistere le categorie più deboli, le categorie più disagiate, da esterno di Governo trovava sempre le soluzioni ai problemi e pontificava, pontificava tanto. Adesso che è il Governo pontifica poco e fa un po' il burocrate, nel senso che non riesce a trovare quelle soluzioni che invece prima trovava quando non era il Governo. Allora noi abbiamo detto che, siccome lui oggi ha detto che la coperta è troppo corta, abbiamo ricordato il suo passato e gli diciamo che l'IVA non deve essere aumentata, le risorse si possono trovare negli 800 miliardi di spesa pubblica che ha questo Paese ogni anno e che lui da Vice Ministro deve ricordarsi un po' di più quello che diceva quando non era Vice Ministro.